Buongiorno, bentornati al TG2000, questi i nostri titoli. Il nodo scuola e il rientro in classe preoccupa 7 genitori su 10, anche la data di inizio è in forze. La politica, maggioranza in fibrillazione, 5 stelle ad un bivio, al Senato si vota la fiducia e Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele. Coronavirus nel mondo, fronte ancora caldo in America Latina, in Francia oltre 7000 casi in un giorno, ma bene la riapertura nelle scuole. E come avete sentito dai titoli, pesano sulle famiglie le incertezze sulle modalità di riapertura e di rientro nelle aule. I genitori temono variazioni di orario incompatibili con il proprio lavoro e credono di non potersi permettere l'acquisto di libri e la mensa per la scuola. Letizia Davoli Non c'è pace nel mondo della scuola. A dieci giorni dalla riapertura, alla diaspora ancora risolta delle migliaia di docenti fragili e a regole poco chiare in perenne mutazione, si aggiunge oggi uno studio di Ipsos per Save the Children che rivela, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, la preoccupazione dei genitori per un ritorno in classe che sarà tutt'altro che sereno e organizzato. Secondo l'associazione, infatti, sette famiglie su dieci a due settimane dall'inizio dell'anno scolastico non avevano ancora ricevuto alcuna comunicazione dagli istituti su regole e orari di frequenza. Una mancanza di informazioni che pesa come un macigno sulla pianificazione della gestione dei figli e che inevitabilmente, dicono i dati, greverà sulle madri e sui nonni, unico e vero welfare per la maggioranza delle famiglie italiane. Il problema più grande, secondo lo studio, sarà conciliare orari di scuola e orari di lavoro. Seguono l'acquisto di libri, materiale didattico o attività extrascolastiche che per molti sono diventati un costo inaffrontabile e la mancanza del tempo pieno che molti istituti non offrono più. Problemi che aumentano al diminuire dell'età dei figli. Sui più grandi, invece, pesa anche la mancanza di autonomia negli spostamenti causata dalla gestione ancora irrisolta dei mezzi pubblici. Ad aumentare di un minimo l'ottimismo arrivano però rassicurazioni dagli scienziati. Si apre in sicurezza, l'epidemia è finita, siamo nella fase di sorveglianza. Intanto il Ministero della Salute annuncia test rapidi a tappeto per ogni caso di positività in classe, mentre dalla Francia arriva la notizia della chiusura per Covid di 12 istituti e un centinaio di classi su 60.000, una percentuale molto bassa che potrebbe far ben sperare. Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che il risultato positivo al Covid-19 è riscontrato un inizio di polmonite bilaterale. Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di aver contratto il coronavirus, così come i figli Luigi e Barbara. Ieri aveva informato di non avere più sintomi. L'ex premier è arrivato in ospedale attorno alla mezzanotte camminando autonomamente e anche Marta Fascina, la finanzata di Berlusconi, è risultata positiva. Non regge l'accordo sulle linee guida nel trasporto pubblico locale. Autisti e sindacati sono in rivolta per l'affollamento. Su Inbus, Beatrice Bossi. Se a scuola il problema è trovare gli spazi per mettere gli studenti alla giusta distanza di sicurezza, sugli autobus si compie la magia. Nessun dubbio, dice il comitato scientifico, i mezzi di trasporto si possono riempire all'80% della capienza. I posti a sedere quindi tornano ad essere tutti utilizzabili e chi rimane in piedi dovrà mantenere la distanza di un metro dall'altro passeggero. Per tutti rimane l'obbligo di indossare la mascherina, ci mancherebbe altro, ma chi controllerà il rispetto delle regole? A Roma gli autisti dell'azienda del trasporto pubblico locale non ci stanno e per il 25 settembre hanno già annunciato lo sciopero generale. Crediamo che in questo momento sia il trasporto pubblico, quel mezzo che potrebbe, se non gestito bene, potrebbe portare in alzamento dei picchi della diffusione del virus. Riempire mezzi all'80% a Roma significa far salire almeno 70 persone a bordo degli autobus e mille sui convogli della metropolitana. Numeri che preoccupano sia gli autisti che i passeggeri, anche perché il riciclo dell'aria è garantito solo sui mezzi più nuovi, meno di un terzo della flotta, denunciano i sindacati. Martedì ci sarà un incontro con la regione, sul tavolo anche il potenziamento delle corse, attraverso accordi con le linee private per cercare di alleggerire le tratte più frequentate dagli studenti. Sono oltre 26 milioni i casi di coronavirus nel mondo. La pandemia avanza in America Latina, in Francia 7 mila nuovi positivi in un solo giorno. Marco Bergamaschi. Nel mondo i contagi dovuti al virus hanno superato i 26 milioni, mentre le vittime sono oltre 860 mila. È il quadro della pandemia fotografato dalle elaborazioni della statunitense Johns Hopkins University. In Brasile ormai oltre 4 milioni di casi, riferisce il Ministero della Salute, che parla però di un reale aumentamento della pandemia. 44 mila i nuovi positivi, 834 i decessi nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime a 124.600. Il paese è secondo solo agli Stati Uniti, dove i casi hanno superato i 6 milioni e le vittime quota 186 mila. In Messico 513 morti nell'ultimo giorno, con il totale delle vittime a oltre 66.300. Rende noto il Ministero della Salute quasi 6 mila i nuovi contagi, con i casi complessivi a quota 616 mila. Nuovo record di contagi in Argentina, oltre 12 mila in un giorno. In India invece 3 milioni e 900 mila i positivi totali, riporta il Times of India, che cita fonti sanitarie, mentre sale a quasi 68.500 il numero delle vittime. In Grecia, dopo il primo caso nel campo profughi di Mori e Lesbo, la pandemia rischia di dilagare tra persone già stremate da pesanti condizioni di vita. E l'allarme lanciato da Oxfam e Consiglio Greco per i Rifugiati, che chiedono ad Atene ed Unione Europea un'azione immediata per evitare che l'emergenza si trasformi in una catastrofe sanitaria. Quando ci sarà un vaccino autorizzato e approvato, fa sapere intanto all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lavoreremo per garantire 220 milioni di dosi all'Africa. Serve un cambiamento, nessuno si salva da solo, l'Europa sia protagonista. Sono le parole rivolte da Papa Francesco ai partecipanti al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Dobbiamo vivere, si legge nella nota del Pontefice, una conversione ecologica per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura. Bisogna puntare, afferma il Papa, ad una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all'accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate. Ci spostiamo negli Stati Uniti, proseguono le proteste antirazziste dopo la diffusione di video e notizie sulla morte di afroamericani per mano della polizia e il Presidente Trump getta benzina sul fuoco. David Murcia. Proseguono le proteste razziali in varie città americane. Quelle che vedete sono le immagini a Portland dove i manifestanti da 100 giorni sono scesi in piazza anche a seguito del video diffuso dai familiari di Daniel Proud, l'afroamericano con disturbi mentali che mentre correva nudo per strada in un suborgo alle porte di New York è stato ammanettato da alcuni agenti che poi gli hanno messo un cappuccio in testa e premuto il suo viso sull'asfalto per almeno due minuti. La morte dell'uomo è sopravvenuta sette giorni dopo in ospedale dove l'uomo era stato ricoverato in fin di vita. Gli agenti sono stati sospesi. Intanto Donald Trump ha firmato un memorandum per tagliare i fondi federali alle città governate dai democratici considerate giurisdizioni anarchiche nel mirino in particolare Washington, New York, Portland e Seattle dove le proteste razziali sono state più forti. Il memorandum chiede al Dipartimento di Giustizia di definire la blacklist delle città entro 14 giorni e di renderla pubblica. La mia amministrazione non consentirà che i soldi delle tasse federali finanzino città, si legge nel memorandum che consentono in se stesse il deterioramento in zone senza legge. Inoltre il provvedimento prevede nuove linee guida alle agenzie federali per ridurre i finanziamenti governativi alle città che tolgono fondi ai dipartimenti di polizia. La cronaca ci riporta in Italia il cadavere di una donna è stato trovato in un pozzo a Poggio Marino in provincia di Napoli. Il corpo era avvolto in una coperta e all'interno di una busta. La donna deceduta era sparita circa un mese fa da San Valentino Torio nel Salernitano comune confinante con Poggio Marino. Da un primo esame sembrerebbe che la donna sia stata uccisa ed il cadavere poi occultato. Ci sarebbe già una persona sospettata e potrebbe a breve scattare un provvedimento di fermo. La giornata politica al Senato si vota alla fiducia sul decreto semplificazioni per il governo sempre più in salita alle regionali del prossimo 20 settembre. Augusto Cantelmi. Dopo la Camera il Senato oggi altra giornata calda per la maggioranza ma questa volta a Palazzo Madama dove i numeri sono risicati. Si vota la questione di fiducia sul decreto semplificazioni la madre di tutte le riforme per il Presidente del Consiglio Conte che prevede tra le altre misure lo sblocco degli appalti fino al 2021 ma i grillini sono costretti ad ingoiare un altro boccone amaro dopo quello di due giorni fa alla Camera sulla norma che permette di rinnovare i vertici dei servizi segreti. Questa volta il provvedimento sgradito ai 5 stelle riguarderebbe la possibilità concessa ai docenti universitari di lavorare anche privatamente. Il Movimento voterà compatto la fiducia rassicura il capogruppo Palazzo Madama Perilli ma i rischi per la maggioranza restano in un clima da campagna elettorale in vista del voto del 20 e 21 settembre in ballo oltre alla guida di 7 regioni e diversi comuni anche il referendum confermativo sul taglio di 345 parlamentari e sullo sfondo soprattutto le tante emergenze da affrontare e discusse nel Consiglio dei Ministri da quella sull'immigrazione dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente della Sicilia Musumeci il sindaco di Lampedusa Martello alla stesura del piano da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre per avere i soldi del recovery fund e non da ultimo alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 al centro del vertice tra governo e rappresentanti dei territori colpiti dopo tante promesse ci crede ancora lei? io ci credo perché stiamo costruendo la svolta non abbiamo chiesto telecomunicazioni in rete unica dalla Corte Europea di Giustizia piove un macigno sulla contesa Mediaset Vivendi ma la borsa festeggia Fabio Bolzetta la sentenza più attesa per Mediaset Vivendi è ora arrivata e potrebbe portare cambiamenti sull'intero sistema delle telecomunicazioni italiane la Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso di Vivendi secondo la Corte del Lussemburgo la disposizione di legge italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell'Unione Europea il nodo è sull'articolo 43 del TUSMAR il testo unico della radiotelevisione la Gcom aveva infatti intimato ai francesi di scegliere tra la partecipazione rilevante in team o in Mediaset della quale detiene il 28,8% delle azioni di cui quasi il 20 era stato congelato ad una fiduciaria in attesa della pronuncia alla Corte UE si era rivolto il Tar del Lazio dopo il ricorso di Vivendi esulta il gruppo francese ma i tempi di applicazione sono tutti da definire la decisione spetta ora al Tarra e a eventuali successivi ricorsi sottolineano i legali Mediaset la sentenza apre dunque la possibilità di convergenza tra i leader delle telecomunicazioni e dell'editoria televisiva dunque alla banda unica e il titolo Mediaset che ha annunciato un possibile interesse sulla rete unica nazionale in fibra corre subito a più un 9% in apertura alla Borsa di Milano ed ora la storia di un clown con le stellette si tratta di un militare che a Padova dedica il proprio tempo al volontariato per donare un sorriso ai bambini malati Censu Grienti Ci sono giorni in cui Walter Mazzocchi indossa la sua uniforme per andare al lavoro altri invece in cui lascia la divisa nell'armadio per essere rimpiazzata da abiti colorati e da un bel naso rosso Mazzocchi è un primo maresciallo dell'aeronautica militare che regala sorrisi a bambini speciali da militare si trasforma in clown ed entra nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova La svolta è arrivata nel 2011 quando ho partecipato ad un corso di formazione per clown volontari tenuto da Wildman Adams il fratello del celebre Patch Adams famoso dottor clown del film interpretato da Robbie Williams ed è così che ho iniziato in prima persona ad avere il privilegio di poter essere di aiuto concreto per il prossimo un impegno che è diventato sempre più frequente negli anni quello che mi colpisce di più è il sorriso che spunta sul volto dei bambini anche quelli più timidi nel momento in cui incontrano il mio sguardo e il mio naso rosso entrare in empatia con queste piccole creature riempie il cuore di gioia ed ha a tutti noi volontari la forza di continuare e di superare anche quegli inevitabili momenti di commozione che ci colgono a volte quando rientrati nelle nostre case dalle nostre famiglie anch'io ho un figlio di 13 anni ripensiamo a quei bambini e ai loro genitori in tutto e per tutto uguali a noi e ai nostri figli era il nostro ultimo servizio il TG2000 torna alle 18.30 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito